Musica Vallo di Diano al via l'indagine serologica per verificare la diffusione del covid sulla popolazione valdianese e quattro comuni interessati, Sala Consiglina, Polla, Aulette e Caggiano San Leornitano, reddito di cittadinanza, 120 nuovi assegni al giorno durante il lockdown Sant'Arsegno, inaugurato il nuovo parco giochi di Piazza Europa, Le Matite Teggiano, sabato scorso 6 tablet per i giovani del Vallo di Diano grazie alla donazione dei Cavalieri Templari Turismo, riaprono le grotte di Pertoso Aulette, visitabili dal primo luglio Buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento con informazioni di Uno News In apertura parliamo di covid ed in particolare parliamo dei test sierologici perché quattro comuni del comprensorio valdianese sono in questi giorni alle prese con dei test sierologici che saranno effettuati su un campione di popolazione che si sarà prenotato per verificare la diffusione del covid-19 nel Vallo di Diano. Quattro i comuni interessati, Salaconsina, Polla, Caggiano e Auletta andando ad effettuare gli esami su circa 4.000 persone. Vediamo Prende il via nel Vallo di Diano partendo dai comuni maggiormente colpiti dall'emergenza coronavirus e dove si sono registrati il maggior numero di casi positivi l'indagine sierologica finalizzata ad uno studio sulla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 I sanitari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a partire da domani, 23 giugno e fino al 27 giugno saranno nei quattro comuni più colpiti del Vallo di Diano e Tanagro per effettuare i test su circa 4.000 persone in totale che riguardano il tampone naso faringeo, test rapido su goccia di sangue e test sierologico su sangue su prelievo venuso Sui siti internet ufficiali dei comuni di Salaconsina e Polla sono disponibili i link per prenotare il test sierologico in particolare Salaconsina, la cui iscrizione è già possibile sul sito ufficiale renderà noto nelle prossime ore modalità, orario e luogo per l'effettuazione dei test che saranno realizzati nei giorni del 25, 26 e 27 giugno Polla invece, sin da questa mattina, ha reso disponibile la piattaforma per la prenotazione sulla home page del sito del Comune che si chiuderà automaticamente al raggiungimento del numero massimo consentito per ciascuna categoria divisa per età con i test che potranno essere effettuati a tutta la popolazione senza alcun limite fino al raggiungimento del numero dei test consentiti Salaconsina e Polla sono i comuni dove saranno effettuati più analisi rispettivamente 2.500 e 1.000 Il Comune di Polla, guidato dal reggente vice sindaco Massimo Loviso ha già reso noto le modalità di effettuazione degli esami che avverranno nei giorni del 24 e 25 giugno presso il polo scolastico di Polla Capoluogo dalle ore 9 alle ore 18 divisi in gruppi che vanno dalla A alla H in base all'età 9 saranno i test effettuati su bambini da 0 a 9 anni 72 su ragazzi da 10 a 19 anni 123 sui giovani da 20 a 29 anni 134 riservati a persone di età comprese tra i 30 e i 39 anni 159 dai 40 ai 49 anni 190 dai 50 ai 59 anni 153 dai 60 ai 69 anni ed infine 160 test sono riservati alle persone di età pari o superiori a 70 anni Dall'ufficio studi nazionali dell'Inps arrivano i dati aggiornati circa la situazione del reddito di cittadinanza c'è stato un importante incremento nell'erogazione del sussidio durante il lockdown a Salerno e provincia nei due mesi di quarantena ci sono stati 120 nuovi assegni al giorno vediamo l'Inps ha fotografato la situazione del reddito di cittadinanza aggiornata al mese di maggio dal report emerge che una famiglia su 10 beneficia del sussidio tra Salerno e provincia con un aumento di oltre 7 mila contributi concessi durante il lockdown le famiglie salernitane che percepiscono il reddito sono 28.352 a marzo erano 25.578 quindi con la chiusura delle attività produttive in due mesi sono rientrate nei parametri economici altre 2.774 famiglie analizzando i dati delle persone singole il trend non cambia sono 75.592 i salernitane che percepiscono ora il sussidio a fronte dei 68.420 di marzo durante la quarantena l'incremento è stato di oltre 7.000 persone anche l'importo medio è aumentato anche se di pochi euro a maggio è di 557 euro di media rispetto ai 553 di marzo l'aumento è imputabile all'aggiornamento della dichiarazione ISEE la differenza di importo medio tra marzo e maggio e il contestuale aumento dei beneficiari sposta anche il peso economico del reddito di cittadinanza in provincia lo scorso mese è stato di 42 milioni di euro 38 milioni a marzo per quel che riguarda il numero delle domande sono 541 quelle respinte negli ultimi due mesi a fronte delle 2.628 accolte il 75% delle richieste arriva ad esito positivo e nell'89% dei casi il sussidio risulta erogato ad un italiano attività di controllo da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Palinuro diretti dalla comandante Francesca Federica del Re contro la pesca e il commercio illegale che hanno portato alla verifica in mare ma anche di ristoranti e pescherie del Cilento a Pisciotta è stato individuato un cospicuo quantitativo di prodotti ittici detenuti in un noto ristorante privi di tracciabilità in un'attività invece a Santa Marina sono state scoperte 1,5 tonnellate di pesce conservate in cella e frigorifero senza che fosse possibile risalire alla loro provenienza sequesti per le stesse ragioni anche a Camerota in una nota pescheria i militari hanno combinato al proprietario una sanzione di 1500 euro e hanno provveduto al sequestro del pesce l'attività di controllo in mare invece ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di nasse posizionate da ignoti a scario erano prive dei necessari elementi di identificazione e segnalate con una semplice bottiglia di plastica episodio simile nello specchio acqueo antistante sapri dove è stato scoperto un palangaro di circa 10 chilometri di lunghezza è privo dei segnalamenti marittimi previsti e della marcatura di identificazione andiamo ora a Sant'Arsenio e cambiamo argomento nel pomeriggio di ieri è stato inaugurato il nuovo parco giochi di ammodernato di piazza Europa a tagliare il nastro il sindaco Donato Picca vediamo inaugurato il nuovo parco giochi comunale a Sant'Arsenio le matite nel pomeriggio di ieri il taglio del nastro che ha restituito ai giovani del territorio comunale un'area di grande importanza per i piccoli e per le mamme che hanno così la possibilità di trascorrere ore di serenità con la garanzia di vedere i bambini divertirsi e giocare in tutta sicurezza l'area giochi situata in piazza Europa è stata completamente riammodernata durante questo periodo di emergenza coronavirus con fondi della regione Campania al taglio del nastro dell'area riqualificata il sindaco Donato Picca che ha voluto sottolineare anche l'attenzione che la sua amministrazione comunale pone alle esigenze dei piccoli cittadini santarsenesi questo è uno tra gli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale in quanto noi non soltanto con questo intervento finanziato dalla regione Campania a valere sui fondi PSR miglioriamo, ammoderniamo e rendiamo maggiormente fruibile una struttura già esistente che va in direzione della promozione turistica e della vivibilità del nostro territorio quindi aggiungiamo un tassello importante, significativo al progetto al quale si faceva cenno cioè la città dei bambini perché un secondo parco giochi è in via di completamento incontrata a San Rocco un terzo sarà invece realizzato al centro del paese sulla scorta di un finanziamento che ci è stato concesso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni quindi un termine appropriato, quello di città dei bambini e penso che sia riscontrabile facilmente a vista la pregevole fattura di questa opera per cui ringraziamo vivamente il direttore dei lavori architetto Marco Cantelme, l'impresa esecutrice Sorem Broker dell'architetto Filippo Marmo e tutta la struttura comunale ognuno si è adoperato affinché questa opera appunto si realizzasse in tempi brevi e potesse essere messa a disposizione già a inizi estate non soltanto della comunità di Sant'Arsenio ma dell'intero comprensorio del Vallo di Diano Vacanze a chilometro zero dettate dalla paura post-Covid ritorna il turismo di prossimità ma vediamo i dettagli nel prossimo servizio Un italiano su quattro che andrà in vacanza nell'estate 2020 ha scelto una meta vicino casa all'interno della propria regione di residenza sotto la spinta dell'emergenza coronavirus e quanto emerge dall'indagine Coldiretti nonostante il via libera e gli spostamenti su tutto il territorio nazionale e all'estero spiega Coldiretti la scelta di una vacanza più casalinga coinvolge una fetta importante di popolazione da nord a sud della penisola il ritorno alla vacanza a chilometri zero degli italiani rappresenta una grande speranza per il turismo nazionale che vale 102 miliardi di euro all'anno secondo l'analisi sui dati Istat accanto ad arte, tradizione, cultura e storia la scoperta del cibo e il vino locali sono il vero valore aggiunto delle vacanze made in Italy con circa un terzo del budget destinato proprio all'alimentazione più del 90% delle produzioni tipiche nazionali secondo l'indagine nasce proprio nei piccoli borghi italiani con meno di 5.000 abitanti un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle culture agricole storiche la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari anche sagre, eventi enogastronomici e folcloristici sempre a livello locale organizzati da nord a sud raccontano le bellezze della penisola e le sue tradizioni e rappresentano un'opportunità importante soprattutto in quei territori dove si sta tornando alla normalità per sostenere la ripresa delle attività economiche un momento conviviale alternativo che riguarda più spesso le aree interne meno battute dove si va ora a guardare curiosare fra le bancarelle magari anche acquistare qualcosa come le specialità enogastronomiche del territorio Restiamo in tema turismo valorizzazione del turismo nel Cilento e nel Vallo di Diano è l'obiettivo del Codacons con una nuova iniziativa Il premio si chiama Piccolo Comune Amico e rientra nel concorso lanciato dal Codacons per valorizzare i comuni con meno di 5.000 abitanti e promuovere le bellezze del territorio e le eccellenze culturali paesaggistiche ed enogastronomiche 27 sono i comuni della Campania a quasi la metà nel Cilento di Anno e Alburni parliamo di Bello Sguardo Cannalonga, Casalbuono, Castelcivita Gioi, Perito, Pertosa Pisciotta, Roscigno, San Mauro Cilento Sant'Angelo, Affasanella e Trentinara che partecipano al concorso nelle varie categorie e che possono essere votati dai cittadini entro il 31 agosto alla pagina dedicata Proprio per incentivare il turismo in regione il Codacons lancia una nuova iniziativa in vista delle prossime vacanze estive il riconoscimento ok comune post-covid davanti turismo dedicato ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che in tema di covid-19 si sono distinti per la sensibilità e l'impegno concreto per il rilancio del proprio territorio e per essersi adeguati alle prescrizioni preservando la salute dei propri cittadini e rilanciando il turismo locale contribuendo così alla piena ripresa economica della comunità e grazie ad una convenzione con il Codacons i comuni della campagna che aderiranno all'iniziativa potranno incrementare il bonus vacanze varato dal governo attraverso sconti e pacchetti su alberghi e altri servizi di valore superiore a 500 euro e le loro offerte saranno pubblicizzate attraverso una campagna social e stampa E cambiamo ora argomento andiamo negli Alburni e precisamente a Roscigno dove sabato scorso nella splendida location di Roscigno Vecchia si è svolto un incontro dedicato all'attività cinofila ma che si è rivelato anche utile per mettere in evidenza le necessità dei territori delle aree interne e per richiamare la politica la responsabilità grazie all'attenta analisi del direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese La successiva location di Roscigno Vecchia ha ospitato sabato scorso un appuntamento in cui i protagonisti sono stati cani attraverso l'associazione cinofila Team Montepruno nata e sostenuta nel suo progetto dalla Banca Montepruno che sabato scorso era presente e rappresentata dal direttore generale Michele Albanese L'incontro ha visto anche la presenza tra gli altri del presidente nazionale della società italiana a prosegugio Roberto Pigliacelli che ha parlato dell'iter seguito dalla società per la valorizzazione e protezione delle razze canine Presente all'incontro moderato dal giornalista Pietro Cusati e denominato insieme Sipò ha anche una nutrita rappresentanza di esponenti politici a cui il direttore generale Michele Albanese si è rivolto nel suo intervento conclusivo partendo proprio dal tema legato alla collaborazione e l'azione unite e condivisa nei diversi settori il direttore Albanese ha invitato la politica a porre maggiore attenzione alle esigenze delle aree interne abbandonando logiche di partito e soprattutto iniziando a riservare a queste aree ricche di potenzialità maggiore attenzione per Michele Albanese bisogna porre fine alla logica che vede le aree interne solo come bacini di voti complimentandosi con l'associazione Team Montepruno per il grande lavoro e la passione che impegnano nelle attività poste in essere il direttore generale della Banca Montepruno ha anche voluto affrontare il tema del lavoro attraverso il dolente tasto della disoccupazione che sta provocando uno spopolamento delle aree interne dei piccoli centri come Roscigno o altri comuni degli Alburni che seppur dalle grandi qualità e potenzialità rischiano però di scomparire se non si interviene con la massima celerità rinunciando alle migliori menti di cui dispongono le aree interne, ha rimarcato il direttore albanese sono ormai abbandonate al loro triste destino e nessuno ha il coraggio e l'interesse di puntare a luoghi e territori che rappresentano un tesoro di valori ed una ricchezza non considerata ma ormai le parole hanno lasciato il tempo che trovano bisogna puntare su una fiscalità di favore per residenti ed imprese agevolando chi vuole investire in turismo rurale ed agricoltura il destino con il covid forse ci sta dando l'ultima occasione da cogliere non bisogna perderla altrimenti tutto sarà segnato definitivamente dobbiamo continuare a guardare avanti con coraggio ha sottolineato in conclusione Michele Albanese e non perdere la speranza siamo un popolo abituato a lottare e noi abbiamo il dovere di restare al fianco di questi volenterosi che hanno gli stessi scopi, gli stessi ideali e perché no gli stessi interessi nella convinzione che come recita il titolo del convegno insieme si può ma aggiungo insieme si deve e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo a Teggiano dove l'ordine dei cavalieri templari sabato scorso ha consegnato al vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca sei tablet da regalare ai giovani che risultano in difficoltà economiche ancora più penalizzati in questo periodo di emergenza coronavirus vediamo l'azione di solidarietà dei cavalieri templari dell'ordine Cosilinum continua a sostegno della formazione dei giovani nella giornata di sabato scorso una delegazione del sacro ordine della commanderia Cosilinum è stato a Teggiano per incontrare il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca a cui sono stati consegnati sei tablet da donare ai bambini appartenenti a famiglie disagiate e che la diocesi attraverso anche il responsabile Caritas ha individuato presso la piazza antistante alla sede vescovile nuova tappa della crociata della solidarietà portata avanti dai cavalieri templari da sempre attenti alle necessità dei territori e della gente all'atto del giuramento sacro cavalieri e dame dell'ordine diventano prosecutori di azioni che partendo dai principi di solidarietà umana e cristiana perseguono un obiettivo di aiuto agli svantaggiati un aiuto che in questo momento difficile legato al diffondersi dell'emergenza coronavirus ha visto cavalieri e dame della commanderia Cosilinum avviare una crociata di solidarietà rivolta prevalentemente ai giovani che più di altri sono risultati danneggiati dalle disposizioni anti-covid le norme di distanziamento sociale hanno imposto la chiusura delle scuole con il ricorso alla didattica a distanza e a nuovi mezzi tecnologici un metodo di studio che ha messo in risalto le differenze socio-economiche presenti in uno stesso paese rimuovere gli ostacoli e promuovere un'uguaglianza sociale, economica e culturale tra le finalità benefiche del supremus civilis et militaris orbo templi ierosolimitani cosilinum che, così come la loro missione, sostengono con i loro doni i ragazzi economicamente svantaggiati individuati da enti competenti sabato scorso tale compito è stato affidato al vescovo Monsignor Antonio De Luca che insieme ai responsabili della Caritas diocesana Don Martino De Pasquale hanno ricevuto sei tablet da consegnare ai giovani alcuni dei quali presenti all'atto della consegna tra le mozioni dei piccoli penalizzati in questi mesi di didattica a distanza Alla cerimonia presso la sede Vescovile curata dal commander della sede templare di Teggiano Giuseppe Zozzaro era presente anche il sindaco di Teggiano Da oggi 22 fino al 29 giugno sono aperte le iscrizioni al campo estivo ripartiamo insieme per i minori da 0 a 10 anni residenti a Padula il comune dà il via alle attività educative estive per i più piccoli che si svolgeranno presumibilmente dal 6 luglio al 7 agosto 2020 presso i locali del plesso scolastico San Francesco nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali per prevenire i contagi da Covid-19 a differenza degli anni precedenti non sarà previsto alcun contributo economico a carico delle famiglie per la partecipazione successivamente alla scadenza del termine previsto per le iscrizioni verranno comunicate dettagliatamente tramite il sito istituzionale dell'ente comunale tutte le modalità di organizzazione del campo estivo andiamo avanti dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus riaprono le grotte di Pertosa Auletta nuovamente visitabili a partire dal 1 luglio prossimo con disposizioni anti coronavirus Dopo 115 giorni di chiusura per l'emergenza Covid-19 riaprono il 1 luglio le grotte di Pertosa Auletta dall'inizio del prossimo mese dunque sarà nuovamente possibile visitare le splendide grotte che sono le uniche in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio pallafitticolo risalente al secondo millennio avanti Cristo L'annuncio della riapertura è stato dato sul sito internet ufficiale delle grotte dove si legge che il lungo periodo di lockdown in cui si è sentita la mancanza della normalità è stato anche l'occasione per riflettere sul futuro e sul contributo che ogni essere umano può dare per il miglioramento delle condizioni di vita Noi ripartiamo dalla passione per il nostro territorio si legge dall'impegno per salvaguardare l'ambiente ipogeo ma soprattutto dai sorrisi che ogni visitatore, adulto o ragazzo ci ha regalato in questi anni e che in questo periodo hanno continuato a sostenerci Dal 1 luglio dunque le grotte di Pertosa Auletta saranno nuovamente visitabili con delle disposizioni anti-Covid Sono previsti ingressi contingentati per un massimo di 12 persone a visita ed orari prefissati La prenotazione sarà obbligatoria e all'arrivo sarà misurata la temperatura Tutti gli ambienti saranno inoltre sanificati sarà necessario indossare la mascherina per tutta la durata della visita e mantenere la distanza di almeno un metro La visita guidata sarà di un'ora con il suggestivo viaggio in barca e la passeggiata di circa un chilometro attraverso le sale dai nomi fantasiosi o storici I musei e le chiese della diocesi di Teggiano Policastro sbarcano su Instagram in vista della prossima stagione estiva Intanto sono riprese le visite dei turisti e le attività di divulgazione della storia e dell'arte di Teggiano Nuova e importante occasione di promozione per i musei e le chiese della diocesi di Teggiano Policastro che sbarcano su Instagram L'idea era nell'aria già da tempo ma è stata formalizzata nella giornata di ieri con l'apertura ufficiale della pagina Instagram dedicata ai musei di Teggiano e di Policastro Lo scopo è quello di entrare in un circuito di immagini suggestive che possano attirare l'attenzione Non foto di opere nella loro interezza ha specificato il direttore del Museo diocesano di Teggiano Marco Ambrogi bensì particolari e suggestioni che rimangano impressi nella mente di chi guarda spingendo ad ammirare dal vivo le opere assaggiate Il pretesto di Instagram è legato anche alla vicina stagione estiva cercando di veicolare nei nostri musei un flusso turistico aggiuntivo rispetto a quello già collaudato da anni L'idea infatti è stata concretizzata proprio grazie ai collaboratori che si stanno occupando della nuova gestione degli accompagnamenti turistici per i musei e le chiese di Teggiano A breve, ha annunciato il direttore Ambrogi metteremo online anche il sito web del museo con un link per il centro turistico e con un collegamento al sito della diocesi Intanto sono riprese nei giorni scorsi dopo la chiusura per l'emergenza Covid-19 le attività culturali di divulgazione della storia e dell'arte dei musei e della città di Teggiano diverse le giornate di visite organizzate con numerosi turisti provenienti anche da Siena, Napoli e Salerno Il Museo di Cesano di San Pietro è stato meta dei visitatori anche nella giornata di ieri e in quella di sabato scorso un segnale importante di ripresa e di ritorno alla normalità Ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti